russe 70.000 90.000 riparare chi sta salendo? eh ti puoi tirare il tiro? ti puoi tirare il tiro? va a agarrar un rapido nuovamente alli che rammò alli che rammò alli che rammò allà stiamo l'està presente l'està ostacolo l'està fuori tos alli fanno alli fanno alli fanno una playa c'è mio papà Vali Qui vienono il pozzo? Qui ci troviamo molti Qui ci troviamo anche dal liceo Qui ci troviamo molto Alla c'è il mio irmano Barcelo, sembra di fare una colazione. Siamo parlando per fare una merenda. Mi primo Alvaro, Alvarito. Hai sacato Alvaro? Noi? Stiamo uguali? 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 Stiamo uguali?